Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuovissima puntata di Giochi da Cagotto Siamo qui oggi con Pizza Delivery a Short Thriller Il titolo dice tutto Abbiamo anche un'ottima pizza alla diavola qui Playeriamo Si è fatto tardi E dobbiamo consegnare ancora una pizza E con una pizza in mano Come la tiene la pizza questo? È magico È già qualcosa di paranormale Consegniamola La porta pixelosa non fa tanto paura devo dire Anzi fa abbastanza ridere Molto molto ridere Entriamo Suoniamo il capanello Jackson Thriller Voi siete sto cazzo e dai abri che c'ho la pizza Wow Sembra accogliente È ok Le luci 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 E accendete queste Cosa cazzo era? Perché? Perché esce del sangue da sopra la mia testa? Perché esce del sangue da sopra la mia testa? Oh Mi ha preso la candela Ok Andiamo di qua Andiamo di qua Qui niente Siamo murati Ci si capisce un cazzo devo dire Saliamo le scale Piuttosto macabro E tu che ci fai lassù? Che cazzo stai facendo? Lassù Posso farla anch'io? Scusate questo me lo dovete perdonare È una vita Che sogno di farlo Ok basta non fa più ridere Cosa stai facendo? Perché lo stai facendo? Dai Fa qualcosa cazzo Perché ti vai incollando il muro? Vabbè Un cellulare Perché non mi fa prendere il cellulare? Voglio telefonare a casa Mi sono smertato Voglio il pannolino Ma no ma Fai con comodo eh Intanto che ti spiaccichi per bene Io me ne torno di sotto Stronza Si impari a far aspettare gli ospiti Hai capito? Eh Sono venuto a portare la pizza Eh Te che fai? Voli? Ho sentito uno strano rumore di fuori È la scatola Chi ha preso la scatola? Oddio È un cellulare Sei tu? Tu non sei un cellulare Non mi fa perdere tempo Andiamo Andiamo a prendere il cellulare Bastardi Vedi chiara moglie il muro Ho preso il cellulare Hello honey Help me Hello What is it? Help I'm trapped in the house What house? Where are you? Where is honey? Get me the fuck out over here What the clown don't I'm in the house I'm coming Cold handed Signorina È caduta Signorina Lei è caduta Signorina le sto saltando sopra Lei è caduta Signorina non mi costringa Vabbè Eh Sticchita Let's go Che cazzo ma Sto giocando solo su due piani Chi è? Chi è che bussa? Eh Non puoi spiegare Dove è anni È morta È morta È morta È morta Eh Sì ma Chi sei? Buoio È bloccata Non ti posso aprire Mi dispiace Tattattà Tattattà T'ho fregato la casa Che palla Dai Dai fatti succedere qualcosa Io mi sto annoiando Annie Annie dove sei? Annie Annie Dove sei Annie? Dove ti hanno portata? Annie Signorina Annie Dai rispondela Prego Perché non mi risponde? Cosa devo fare? Non mi ruone Dove cercare la chiave Secondo me Non ci sono chiavi Ok Immaginavo Non ci sono mai chiavi Quando servono Torniamo di sotto Andiamo a dirglielo Non ci stanno le chiavi Uè Questo ormai è casa mia Andatevene Dovete andarvene Stronzi No Non c'è nessuno Qui dentro Neanch'io Perché la pizza E' per terra La pizza Si mangia Non si muta Per terra Cazzo Si mangia Adesso Adesso Che gli faccio Io sta pizza Eh Come te la servo Col culo Te la servo Ma va Un po' va Ma va via Torniamo un po' di sopra Tanto qua è questo gioco Su e giù Su e giù Oh E tu chi sei? Signore Lei sta baggando il muro Signore Lei è due facce Signore Lei mi ha rotto i coglioni Tutti uguali Siete su sta casa Tutti uguali Siete Porca buttana Tutti uguali Perché la tv non parte? Che cosa ha la tv? Almeno si sente Ok Quell'altro Te l'errore Dove sono finito Nel bosco Di cento acari Andiamo a trovare Winnie ve Pupa Oddio c'è un sentiero C'è anche la mia moto Bene Quanto spreco Però Sono pizza la diavola Chissà cosa vogliono dirci Non è buon segno Non lo vedo bene Siamo soli Siamo soli vero? Sì che siamo soli Dai Dimmi che siamo soli Vabbè io continuo a seguire la scia Chi è che ha sprecato tutta sta pizza? Cioè Voglio saperlo Non è normale Cucù Signorini Scusa eh Una domanda Lei chi è? Perché la mia pizza è lì? Finito? Finito? Bello Veramente bello Vabbè ragazzi Cercheremo risposta sul pizza delivery 2 Dai Alla prossima Ciao Ciao